Attenzione, dedizione, professionalità e grandi capacità. Non si sono mai fermate l'equip di professionisti impiegate nei trapianti all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova. 329 quelli eseguiti nel 2020, con dei record in Italia in quelli di Cuore, 37, e di Rene da Vivente, 45. Un impegno corale di tutta la sanità padovana che con fierezza racconta come nessun paziente trapiantato sia stato contagiato dal Covid in quest'anno difficilissimo. Un fiore all'occhiello per la sanità di tutto il Veneto. I programmi di donazione riguardano, sono programmi regionali, addirittura poi abbiamo anche dei programmi nazionali, ma voglio dire prevalentemente parliamo della regione Veneto, quindi noi il donatore possiamo averlo da un ospedale che non è Padova, quindi è fondamentale, quindi possiamo dire certo che è un'eccellenza di tutta la regione. L'impegno c'è, si potrebbe però fare addirittura di più. Il 30% delle persone infatti non è donatrice. Un gesto semplice, la risposta sì alla domanda dell'addetto all'anagrafe. Tutti possono essere donatori, anche gli anziani ricordano i professionisti. Abbiamo cercato e stiamo cercando di fare in modo che questa eccellenza possa veramente continuare a lavorare, così come ha fatto in quest'anno bruttissimo con la presenza appunto del coronavirus. Siamo riusciti a mantenere gli stessi numeri del 2019 e iniziamo un 2021 con una speranza di poter mantenere anche per il 2021 i dati del 2020. È importante però che ci sia lo spirito della donazione, quindi l'appello che facciamo è donate, donate quando potete perché un organo può veramente salvare la vita ad un'altra persona.